buongiorno a tutti siamo in partenza e oggi ho deciso di staccare dallo studio da qualsiasi cosa andremo a passare un'intera giornata al mare non andiamo al mare insomma che abbiamo qui vicino ma ci stiamo spostando a campo marino io non ci sono mai stata giovanni si mi ha detto che il mare è molto bello quindi ho subito accettato adesso giovanni nel bar sta prendendo i cornetti ho commissionato un cornetto la nutella è un succo pace tra l'altro ostra fame quindi aspetto dai si vede il ruolo facendo rifornimento io nel frattempo mi sono preparata il succo mi ha detto che siamo un ritardo sulla tabella di marcia però insomma recupereremo comunque sono le 8 e 24 abbiamo credo più di mezz'ora di strada però abbiamo prenotato quindi dovremmo avere insomma i lettini ombrelloni pronti adesso mangio il cornetto ovviamente siamo molto fortunati abbiamo trovato un passaggio a livello chiuso e siamo fermi da un po' tipo 5 minuti non sappiamo ancora quanto staremo e c'è una grande fila aspetta un attimo aspetta un attimo siamo arrivati ed è bellissimo adesso vi faccio vedere tutto nell'altro siamo strafortunati perché siamo in prima fila quindi qui c'è il mare e qui siamo noi ci sono questi lettini molto grandi cioè non so se si capisce la dimensione questa sono io qui ci sono i lettini cioè ci siamo tranquillamente in due su un lettino c'è un bellone di panni c'è un nanni tavolino la cosa che più mi piace in assoluto è il fatto che abbiamo la doccia personale il che mi permette di pulirmi i piedi prima di salire sul lettino e non sporcare tutto di sabbia quindi top e niente abbiamo già fatto il primo bagno l'acqua è bellissima è abbastanza caldo adesso metto un po' di crema sul viso ho già messo la crema Giovanni adesso me la metto anch'io ho messo l'aria per il viso sto utilizzando questi due entrambi di protezione 30 qui si passa alle cose serie burraco ho dei capelli inguardabili però stiamo aspettando il pranzo ovviamente al mare ci manteniamo leggeri io ho preso due cotolette con le patatine giganti ma veramente giganti è questa piadina con crudo, pomodori, stracchino insomma buon appetito sono ormai le 4 di pomeriggio io sto facendo uno spuntino ho preso al bar questo yogurt bianco con pezzetti di frutta sotto e sopra il mare è sempre bellissimo quindi adesso mangio questo e ci andiamo a fare un altro bagno no, non si spiega su una cosa sono tra l'altro appena accorta di essermi, non penso bruciata però comunque sono diventata abbastanza rossa in faccia ovviamente ho anche messo la crema due o tre volte però questo è il risultato è la mia ora preferita perché non c'è più nessuno in acqua si sta benissimo allora è passato un po' di tempo si è fatta tipo sera sono le 9-10 e la serata si è conclusa così abbiamo preso McDonald's da sport e niente mangiamo perché siamo molto stanchi dopodiché mi devo fare assolutamente una doccia devo mettere tantissima crema idratante sul corpo perché ho preso tanto sole e niente per ora mangio io ho preso questo questo toast poi ho preso un Big Mac che è qui le patatine Coca Cola ovviamente zero poi abbiamo le ali di pollo ci sono i nuggets Giovanni aveva preso un panino solo che si sono dimenticati di metterglielo nella busta quindi adesso sto tornando indietro a rivendicare il suo panino perché insomma non c'era è stata una bella giornata mi è servito comunque staccare un po' dallo studio e spero che comunque vi abbia fatto piacere passare la giornata con noi se è così lasciate un like a questo video e se vi va iscrivetevi al canale adesso finisco di mangiare e noi ci vediamo in un prossimo video ciao